Ciao a tutti amici e bentornati in The Walking Dead, a New Frontier! Come al solito io sono Amor Iscrividal, benvenuto in questo nuovo video. Amici, sì, possiamo contattare The Walking Dead, a New Frontier? L'hanno tradotto in italiano, link in descrizione, playlist con tutti gli episodi di The Walking Dead, potete rivederli dall'inizio, seguire una stagione che non avete fatto, ma tutto rigorosamente in italiano. Quindi vi ricordo di lasciare un bel like, un commento e una condivisione. Ma iniziamo subito. Ma prima di tutto, e come al solito, per questo genere di giochi, via la cam! E la cam se ne va, e noi continuiamo con l'episodio 2, i legami che legano, alla luce dei crescenti problemi, Yavie conduce, Yavie per gli amici, conduce un gruppo di rifugiati verso la salvezza. Non avvicina. E lì dà. Vediamo cosa diavolo succede, perché avete visto Clementine che aveva sparato, va bene, Clementine che aveva sparato al tizio là, Haiti al tizio là, poi... Abbiamo visto una Clementine cazzutissima, ma siamo tornati, credo, prima dell'epidemia. Flashback prima dell'epidemia. C'era già un qualcosa, eh? Insisto, lascia, facciamo i bravi. Perchè non parla con me? Si, perchè non parla con me? Non so, con ciò che si è successo, io sarei scoperto se potessi ottenere un lavoro di cocazione T-Ball. Soprattutto sui piedi. Oh, qui c'è la speranza. Potrei usare un inizio fresco. Eh, probabilmente solo viaggiare, sai, vedere cosa c'è lì. Vuoi prendermi con te? Ma dici veramente? Ehi, si sta scherzando, non sta scherzando. E' solo difficile dire no a un nuovo inizio fresco. Ho sempre chiesto di andare a Norvegia, vedere le luci nord. Ma tu sarai inizio e... e io ancora sarò qui. Oh, che era accaduto? Tipo, gravità di giove. Puoi dare la colpa a me? Non mi vuoi, non puoi capir. E' solo una fan будita, e' solo per non siete idiot partido, niente? E' yang vero. horsego. Esatément. Esatemento. Eh, diceπε, famoso panno magico perchè? lontanati quella ci sta provando allora non sarai a mea quando c'è un pochè scusami? è solo un caccio era importante per me, Javi un caccio? non vediamo la tua per un anno un anno poi quando la vita si va a f*** noi ci si aspettiamo di riprendere tutto e rilassare la panna tutto per Prince Javi e ora ti stai dicendo come parlare con mia iscritta? non è proprio lui è proprio? è il che stia là giuderemi per qualcosa che non capisci non lo conosci non lo conosci lasciamolo perdere lasciamolo parlare sai cosa? sei certo non è nessun negozio non non scusami del caccio però è bene è stato un accidente non ti preoccuparti io posso capirlo è solo in un mood trust me non durerà bene dicevo secondo me sto gestendo beccatezza povera povera che f*** è questo? si vabbè lasciate un attimo andata tranquilla si vabbè lasciate un attimo andata salvala 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 la vi eravamo dato Abbiamo bisogno di lui. Esatto, diamogli anche fiducia. Prende Gabe. Prende la scuola. C'è bisogno di tutti per mantenere la scuola con la scuola. Prende la scuola, e prende la scuola. Ok. Stai facendo fantastico. Oh! Oh no! 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 Kate, tu stai addirittura. Ho bisogno di andare in là e poi ti faro. Ok? Ok? Non ho risposto prima, se la farà o no. Eri preoccupati. Un, tre. Un, due, tre! Mamma mia! Chissà che male che devo fare! Ma poi che punti in mente? Come fa a togliere il dedo? Va bene. È meglio non farci domande. Ah, ok. Cosa faccio? Cosa faccio? No, era l'alcohol! Oh, Dio! F***! Scusate! Va bene, fa niente. Fa niente, Gabe. Vabbè, un po' di alcol non farà male. E poi dovremmo parlare. Cosa è venuta a secca? Cosa è Clementine? Beh, diamogli. Diciamogli dei grazi, diamogli. Per salvare la vita. Non so cosa avrei fatto se... Sono felice che potrei stabilizzarla. Non mi sto attaccando a questi personaggi. Taccando proprio bene. Molto. E se fosse un po' di alcol si. E se fosse un po' di alcol si. Cosa è il tuo, Gabe. Il sembra davvero fierzo. Ci ha dimostrato molta coraggio. Sendo così. Sì. Quindi quando sarà a stare sui piedi di nuovo? È stabilo. Per ora. Ma... È ancora stile all'interno. Non voglio menti. Cioè ci sta dicendo che questo è il tempo che muore o che questo è il tempo che guarisce? Non posso perderla. No. Non accetto. Non posso. Beh, questo ci provo con noi. Scusate, Javi. Do Giovanni. Chissà dove è andato a finire. Va bene, ok. Il camioncino dell'A-Team è praticamente uguale. È uguale al camioncino dell'A-Team. Va bene. Allora. 30. E 30. E 30. Non avrebbe avuto importanza. Non avrebbe avuto una differenza. Probabilmente non. È difficile da giudicare. Considero che ero calcolando i miei piedi qui a quel tempo. Ha detto che questo qua ci poteva dare una bella mano comunque. Non in più. È una vera situazione. Just know. I'm praying for you. All of you. Whatever happens. You all are welcome to stick around in Prescott. If that's what you want. Nobody's gonna force you, but... We'd be glad to have you all here. I'm not going to make a decision like that without talking to Kate, Andiamo a vedere. Un raccogli. Tanto c'è anche un incudine. Take free sample. Che cosa sono? A bottiglie d'acqua. Potremmo darla o a Gabe o a Kate immagino. A bottiglietta d'acqua. Credo. Poi comunque abbiamo il Walkman. Troppo. Eh, sto ancora pensando alla scena quella là. Quando è stata... Quando mi hanno sparato in testa. Un baseball game in Arkansas una volta. Un'ora di vita. Ah, ok. Interessante. È raro di pilotare. Hmm. Non sembra super sturdio. No. Anzi, sembra incollato con lo sputo, veramente. Bello lo zainetto tra la colla che c'ha a Abby. Hey. Hai visto un figlio che è arrivato qui? Il sangue è tutta la mano. Si. Ha avuto un'ottima notità di reale. Ha avuto un'ottima notità di reale. No non si. Non, non si. Ah, all'ottima notità di reale. E comunque devo dire che qua a Prescott sono persone, devo dire, molto disponibili. Il cancello principale addirittura. E da qua? Bene. A questo punto usciamo. Andiamo a prendere Gabe. Dove cavolo si è finito con Gabe? Se la sta prendendo con uno zombie. Gabe? Gabe, come... Guardami. Ecco il Walkman. Dai il lettore. Eh sì, in effetti. Manca anche... Ehi, già hai dato una mano, hai sbagliato, hai ficato se lacco nello stomaco. Dai, potremmo. Adesso ho riducido, e... ... e poi... ...sicono un mancato gembio. Cosa si si stifo... Ti ho resti lungo per far whicua. E che perché di quello, io sono orgogno di tante. Hai proprio per lui. L'ai che tu possa. Non c'è. Non c'è. Mi sono finito per sentire in questo modo. Sentire... potente. Non puoi essere un uomo che non puoi. Mi bisogna essere un uomo. Juste come i papà. Dice come i ragazzi. Tu è già un uomo, Gabe. Non. Ma almeno lo sai ora. Nel prossimo, non lo so. Nel prossimo, non lo so. Guardate e guardate. Ho fatto qualcosa. Ho bisogno. Ecco, Gabe. Oh, Clementine. Eccolo qua, Clementine. Cosa succede? Cosa succede? Inizio! Ora! Vabbè, insomma. non è stata proprio un'ottima idea tirarle qui dentro. Ma, amici, direi che per questa puntata è tutto. Andremo avanti. Nella prossima puntata vedremo cosa succederà. Sono molto... trepidante di sapere cosa succederà. Vi ricordo di lasciare un bel like, un commento e una condivisione. Davvero c'è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.